Gela, rissa del 3 dicembre a Caposoprano. Il questore emette provvedimenti da cur nei confronti dei sette indagati. I cinque maggiorenni e i due minorenni si sarebbero resi autori di una violenta rissa nei pressi di un bar nel quale si sviluppa la movida gelese. Il questore di Caltanissetta, al fine di garantire il mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica, ha adottato sette provvedimenti di divieto di accesso e pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti di cinque maggiorenni e due minorenni gelesi. I destinatari della misura lo scorso 3 dicembre si sarebbero resi autori di una violenta rissa nei pressi di un bar nel quartiere Caposoprano nel quale si raduna la movida gelese. Per tali fatti il commissariato di pubblica sicurezza ha denunciato i responsabili alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Con il provvedimento amministrativo adottato dal questore, i sette indagati, cinque dei quali gravati da pregiudizi di polizia, non potranno accedere o stazionare per un periodo di due anni nei pubblici esercizi della zona frequentata da molti giovani, anche minori. La violazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 a 24 mila euro.